Allora, buongiorno a tutti, buonasera, buonanotte, dipende un po' da dove siete e da che orario mi guardate, ma oggi voglio fare un video così, come si può dire, per spargere conoscenza, visto che non ho trovato informazioni al riguardo, ok, e tante volte mi sono ritrovato a chiedermi se i processori dell'EPS4 fossero buoni oppure no, ok, e come andarli a testare, ok? Allora, io qua ho una scheda sub001, aumentiamo lo zoom così vi faccio vedere meglio, sub001 con il relativo codice sotto, esistono diversi codici sotto, che terminano per 11, 21, 31, 41, 51, 61, uno dipende un po', eccetera, e sono le varie piccole revisioni che ci sono. Allora, il processore, chiamato anche APU, ok, ha in totale, almeno, spero, credo, non so dirvi con esattezza precisa, perché non ho costruito la scheda, non ci sono schemi elettrici, eccetera, ha quattro linee di entrata per la corrente, ok? Cioè, questa qui, ok, questa qui, la principale, che è questa qui, e un'altra qui, ok? Quindi per me sono quattro linee, ok? Ogni linea chiaramente ha il suo valore di resistenza che deve essere consono. Allora, io su questa scheda qui, e bene o male, su tutte le schede, cambia magari di qualche Ohm, eccetera, io mi sono ritrovato su questa corsia qua, 50 Ohm, circa, ok? Ogni tanto misura 47, ogni tanto misura 52, ogni tanto, vabbè, più o meno 50 Ohm, ok? Su questa qui, ok, ci sono 20 Ohm, circa, sempre, e questa corsia qua è responsabile per dare la corrente sia alle RAM, ok, che a una parte del processore. Quindi, se vi trovate in cortocircuito questa linea qua, o è la RAM o è il processore. Vabbè, chiudo parentesi. Perché è condiviso, insomma, in sostanza. Allora, quindi una volta che avete tolto il, se dovete togliere il processore per verificare, e vi ritrovate lo stesso ancora a 20 Ohm, è perché, appunto, è condiviso anche dalle RAM, quindi le RAM poi daranno il valore di resistenza. Altrimenti, su queste altre qui, quando andate a togliere il processore, non vi daranno più i valori qua, per esempio, qua non mi dà più 50, adesso. A me dà, dopo vi metto anche il multimetro a schermo. Allora, massa qui e il valore qui mi dà un valore alto, ok? Siamo sui 40 Mhom, 30 Mhom, roba del genere, capito? Mi dà un valore alto perché? Perché il processore chiaramente è staccato e quindi non c'è più una lettura valida. Dopo, qui, è la parte principale, ok, del processore, e io qui ho misurato 15 Ohm circa, ok? E invece su questa corsia qua, io ho misurato 30 Ohm circa. Allora, adesso, l'unica corsia, come vedete, ho tolto il processore, l'unica corsia che mi è rimasta con il valore, più o meno, è questa qua, perché, appunto, come ho detto, ci sono le RAM che sono ancora collegate. Se noi stacchiamo tutte le RAM, poi questo valore qui si alzerà perché non ha più le RAM che abbassano il valore. Però, allora, una volta staccato il processore, cosa ho fatto? Io sono andato chiaramente anche a tracciarmi qui, sulla scheda, mi sono preso la briga, ok, ho preso qua il punto e sono andato a cercarmi il punto corrispondente, va bene? che in continuità con il beep funzionante, poi sono andato a verificare, c'è tra destra e sinistra, quale fosse la corsia corretta che suonasse, che mi dicesse, ok, sono qua. E di riflesso, io ho preso il processore, ok, l'ho posizionato circa così, ok, voi mettete conto che è di riflesso, ok, perché il processore chiaramente è così, ok, dovete fare conto su questa cosa qua. Quindi io cosa ho fatto? Ho tracciato tutte le cose e mi sono andato a misurare il processore per sapere se era buono oppure no, ok. Adesso allarghiamo un attimino l'immagine, ecco qua. E allora mi sono andato a prendere questa, per esempio, la linea principale, ok, sono andato a misurarla e ho trovato che qua è dove va a finire. Quindi io ho preso la massa, la massa dov'è? La massa è su questo primo angolino qua, ok, a metà, ci sono tre piazzole qui, la piazzola a metà è quella della massa. Quindi di riflesso, ok, io sono di qua, ma sul processore sono di qua, perché chiaramente c'è sempre stessa cosa, ecco qui, questo qui è l'angolo che devo andare a prendere. Quindi qua avrò la mia massa, ok, io quindi vado a mettere il puntale nero sulla mia massa, ok, e vado a misurare il primo angolino qua, perché da questo angolino qui, eccolo qua, quello centrale è quello che mi serve. E io vado a leggere 12 Ohm, ok? 12 Ohm è abbastanza vicino a 15 Ohm, di conseguenza è corretto. Cioè nel senso il processore, sebbene l'abbia staccato con il calore eccetera, è ancora sano su questa linea, ok, è ancora funzionante su questa linea. Se poi vedete zero, basta, è morto. Quindi inutile fare altri lavori. Poi sempre con il puntale nero sulla massa del processore, ok, sono andato a ricercarmi lo stesso anche le altre linee. Quindi quella principale è a posto. Mi sono andato a cercare questa. Questa qui mi viene qua. Quindi tre pallini in basso e tre pallini da sinistra. Su questo lato qua. Quindi di riflesso viene su questo lato qua in alto. Quindi parto da questo pallino qui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eccolo qua. Quindi vado a prendere questo puntino qua, lo vado a misurare sulla massa e vado a vedere che ho 27 Ohm, ok? Il che è corretto, perché si avvicina molto a 30 Ohm, ok? Quindi anche questa linea qua è salva. Dopo, questa qua, che è in comune con le RAM, dov'è che andava? Se non ricordo male è qui. Sì, eccolo qua, ok? Quindi vediamo, ci sono le due corsie qua più lunghe, l'ultimo pallino della corsia. Quindi le due corsie qua più lunghe, la seconda, l'ultimo pallino qua della corsia. E l'ultimo pallino della corsia mi misura 380 Ohm. Va bene. Perché se misuro 380 Ohm ed è così distante, va bene? Perché 20 Ohm, ok? È il valore di resistenza interna delle RAM. Per la legge di Ohm, quando ci sono più valori di resistenza in parallelo, ok? Il valore di resistenza totale si avvicina più a quello del valore di resistenza più basso. Quindi se le RAM sono di 20 Ohm, io qui ho 20 Ohm, anche se qui ho un Kilo Ohm, ok? Perché? Perché il valore di resistenza più basso è quello delle RAM. E quindi qui vedrò quello delle RAM. L'importante è che non sia troppo basso, capito? Tipo, se qua io, per esempio, ho 50 Ohm, potrei essere in dubbio, ok? Se io ho 0 Ohm, chiaramente è morto, è in cortocircuito e non va bene. Allora, poi c'è l'ultima qui, l'ultima qui che dovrebbe fare 50 Ohm, e questa qui, dov'è che era? Adesso non mi ricordo già più. su quest'altro angolo qua, ok? Quindi, angolo di riflesso, ok? Vado a prendere qui, sulla massa, e vado a leggere che ho 46 Ohm, quindi è ok. Questo processore si è salvato mentre lo si staccava, quindi è ancora sano, può ancora funzionare, e può essere riutilizzato, insomma. Ecco, video termina qui, video breve, non mi interessava fare altro, mi interessava fare un video così dimostrativo, anche per me stesso, perché molto spesso mi dimentico di queste cose qua, i valori di resistenza, quali sono, così allora senza perdere troppo tempo, e anche i punti, perché non c'è nessuno schema, se si va a cercare pinout del processore, eccetera, non esiste un'immagine, non esistono schemi, e quindi non si riesce a sapere se il processore può essere buono oppure no. In questo modo, almeno per la scheda SAB001, che ne ho qua una, altre schede non ne ho, ok, e ho potuto fare questa cosa qua, e adesso procederò anche magari, quando me ne arriveranno altre, ecco, con la stessa problematica di questa, farò le varie misurazioni, insomma. Ecco ragazzi, questo è tutto, iscrivetevi se vi è piaciuto il video, mettete like se vi è piaciuto il video, commentate se vi è piaciuto il video, se vi è stato utile almeno, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!